io dai fammi te vede da sopra sotto da sotto da sotto fai la coscia anche di di mezzo no anzi le mie misure io ti volevo dire le mie misure eh bravo 90 60 90 30 eh 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 ecco 30 allora io avrei cosa ci sta qua dietro? ci sta una cosa mia? una cosa mia? una busta c'è una busta ok grazie ora fai un giro eh perché mi servono due giovanotti due vai te lo dico io uno e due mettali qua l'uno e due si tutte e due vabbè ecco state fermi qua balletto vieni qua portami la busta la busta balletto il mio balletto no guardate guardate verso là anche io questo il tuo microfono ok come ti metti? oh ma come ti metti? come ti metti? aspetta dopo mi metto ah dopo ti metto certo che ne ha beccati due che già di loro ragazzi mi sa che tra poco li vedremo come non li abbiamo mai visti prima come non li abbiamo mai visti prima non li conoscesse ancora il piccolo Francesco il grande Luca 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 non ti entra non ti entra aspetta da lì aspetta cambialo ecco qua è entrata guardate 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 dove la metti dai ricordiamo che tutte le foto di questa serata saranno pubblicate sul sito www.crazynight.com comprese questa eh ragazzi è sul sito www.salsaportoricano.com vai vai aspettate oh cosa ne pensate di questa serata? super oh alberto obiettivi futuri 21 l'obiettivi futuri saranno con me e i miei ballerini nel frattempo io vado a cambiarmi ritorno fra di voi il nostro Piero vi fa ballare un pochino voi non lo fate scampare eh vabbè non lo fate scappare Piero sei pronta che io mi devo andare a cambiare il mio va bene falli ballare io ti do un accenno va bene falli ballare che io ritorno ciao ecco vai 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 ragazzi lo spettacolo nello spettacolo che se sei il poeta oh è string 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 la gamba in me la gamba in me ok ovviamente vi invitiamo tutto il pubblico in vista riportiamo la imbocciata il pubblico in me